Amore, stavo pensando, no? Sì! Ti va se questo weekend andiamo a fare una spa? Bello! E prenoto anche un bel massaggio di coppia? Bello! Poi potremmo fare anche un bel aperitivo in vasca? Sì, bello! Allora prenoto! Sì! Amore, però non fa che poi cambi idea, eh! Eh no! Vabbè, io chiedo, amore! Uau, amore, che bello! Però mo che ci penso, mo io non c'ho una lira! Eh no, però! Eh, lo so! Dai, però, che palle! Ci vogliamo andare e paghi tu, poi il prossimo weekend offro io? Sì, sì! Allora vado a prenotare! Sì! Ti lascio! Ma che è successo? Amore, dai, svegliate a mangiare che partiamo! Partiamo? E' un fenomeno, eh, non lo so. Segui le avventure di Momo e Kika Lascia un like al video e condividi! E soprattutto iscriviti ai nostri canali! Siamo su TikTok, Facebook, Instagram e YouTube! Andava bene, amore? Anche meno, lo so! Anche meno!